Salve amici, vieta di vedervi. Avvocatessa Bella, com'è andata la causa? Ah, non me ne parlate, è successo di tutto in aula. Sono in vena di quiz, amici. Secondo punto, qual è la professione più antica del mondo, tra le nostre? Ma è facile, il medico, perché ricordate che quando Dio estrasse la donna dalla costola fece un vero e proprio intervento chirurgico, quindi la medicina vince. E no, caro amico mio, dottore, Dio aveva creato da prima il cielo, la terra e il mare e aveva messo prima ordine nel caos primordiale. E no, cari amici, la professione più antica è la mia. E no, perché si stiamo in chiamavate prima quando è bello? E secondo voi, chi ha creato il caos? Grazie. 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 Grazie.